Ciao a tutti, il mito della bellezza femminile. In questo video voglio parlarti del mito della bellezza femminile, quello che molte donne bramano, che molte donne cercano, ma in realtà si tratta solo di un mito. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo, inoltre, che sul canale ti puoi abbonare, potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master con satin con in più una consulenza telefonica. In più c'è la possibilità di partecipare all'abbonamento live per partecipare alle mie live con un costo veramente irrisorio di un caffè al mese. Ma veniamo al tema, il mito della bellezza femminile. Allora, molte donne purtroppo sono schiave di questo mito della bellezza femminile, questo mito che non gli dà nessun vantaggio, non gli dà nessuna possibilità di essere comunque felici. Purtroppo, diciamo, sia nei social, su Instagram, sia nelle televisioni, un po' dappertutto, c'è questo mito per cui è stabilito che la donna deve rientrare in certi canoni. E purtroppo questi canoni sono dei canoni fittizi, che poi non portano veramente nessun vantaggio, ad esempio un'eccessiva magrezza, ad esempio. Non c'è, non c'è, non ha nessun, non ha nessun senso. Il fatto che una donna deve avere una taglia 38, massimo 40. Il fatto che deve avere i labroni gonfi, infatti poi molte diventano rifattone per inseguire questo mito di una bellezza che non porta nessun vantaggio, non porta nessun vantaggio e anzi ti condiziona fortemente. perché tra l'altro veramente da un punto di vista reale qualunque uomo non è attratto dalle donne che rispecchiano ad esempio certi cliché o comunque gli uomini che sono attratti da questi cliché perché sono soltanto condizionati e non hanno nessun, come dire, nessuna qualità. Quindi se tu vuoi cercare un uomo di qualità devi sicuramente curarti, prendi sicuro di te, io non sto dicendo questo, ma non devi puntare tutto sull'esteriorità perché purtroppo per una donna non basta neanche essere bella. devi curare veramente il tuo stile di vita, la tua interiorità, il tuo successo personale. La bellezza non è vero che è tutto, anzi è la parte minoritaria per essere felici e poi soprattutto non esiste un canone unico di bellezza. Devi tenere presente questo fatto, se tu cadi in questo tranello, in questo incantesimo, diciamo, di avere un, diciamo, un, come dire, un canone di bellezza che è quello trasmesso dai media, da questo pensiero unico, beh, resterai sicuramente delusa. Anzi, la diversità è quella che, diciamo, colpisce poi gli uomini. Tutte queste donne uniformate ad uno standard, sono, diciamo, predestinate ad essere, ad essere, diciamo, insicure, sono predestinate ad essere infelici. Non puoi basare tutto sulla bellezza. La bellezza non è il metro della misura di quanto vale una donna, ma neanche qualunque uomo di qualità. Certo, una donna deve piacerti, deve essere curata e tutto, ma al di là di quello non ci sono dei parametri. Il fascino non è omologabile, diciamo così. Il fascino è quello che ognuno di noi ha dentro. È importante saper gestire anche i tuoi profili, non puntare a diventare la donna dei sogni, diciamo, una donna falsa. Questo è molto importante. Se tu riesci a capire questo, avrai sicuramente dei grandi vantaggi, dei grandi benefici, e riuscirai ad ottenere molto di più, sia da un punto di vista sentimentale affettivo, che in generale nella tua vita. Quindi lascia perdere dei canoni, degli standard, e punta sulle tue capacità, sulle tue abilità, e fregatene di questi, diciamo, stereotipi che servono soltanto a omologare le donne, e servono soltanto a far vendere fondamentalmente prodotti. apprezza ciò che sei, sei speciale, e quindi devi cercare di portare avanti, devi portare avanti la tua esteriorità, così come sei, curandoti, prendendoti cura di te, sicuramente, questo è una cosa fondamentale, ma non diventando schiava di stereotipi che non ti portano assolutamente nessun vantaggio. Se vuoi cambiare, se vuoi modificarti come sei, fallo, ma fallo solo per te stessa, per non andando a inseguire uno stereotipo che non ti porterà davvero nessun beneficio, che non ti porterà nessun vantaggio. cura la tua autostima, cerca di dare forza alla tua autostima, crea i tuoi valori, e dai vita ai tuoi valori personali, che non devono essere quelli omologati da chissà chi, e lascia che i tuoi talenti possano esprimersi, perché dentro ognuno di noi ci sono dei talenti, ci sono delle risorse, che tendono solo di potersi esprimere, di potersi manifestare, solo in questo modo riuscirai veramente ad essere felice, riuscirai anche a conquistare la persona giusta per te, perché darai valore a te stessa. La cosa fondamentale che dobbiamo imparare a fare è dare valore a noi stessi, non pensare di avere valore soltanto se sei uniformata ad un certo ruolo, se sei uniformata ad un certo stereotipo fisico, dai valore a te stessa per quello che sei, cerca sicuramente di diventare la migliore versione di te stessa, ma non cercare di uniformarti a qualcosa che non fa parte di te. Quindi i valori sono veramente importanti, non lasciate ostacolare dal giudizio esterno, fortitene assolutamente dei giudizi degli altri, perché sono, diciamo, servono, devi usarli sostanzialmente come carta igienica, fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai, potrai scegliere tra ben quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base per lezioni mirate, abbonamento top per lezioni mirate e videoregistrazioni, seminario del vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!